Il treno regionale, 21040, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Formia, delle ore 4.54, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 21056, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Roma Termini, delle ore 5.37, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Cancello Arnone. Il treno regionale, 21039, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 5.54, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Versa, Sant'Antimo Sant'Arpino, Fratta Maggiore, Casoria. Il treno regionale, 21420, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Villa Literno, delle ore 7.12, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Albanova. Il treno regionale, 21415, di Trenitalia, proveniente da Villa Literno, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 9.51, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Versa, Sant'Antimo Sant'Arpino, Fratta Maggiore, Casoria. Il treno regionale, 21053, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 7.44, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Versa, Fratta Maggiore, Casoria. Il treno regionale, 21066, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Roma Termini, delle ore 8.43, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 21055, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 9.07, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Versa. Il treno regionale, 21059, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 9.58, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Versa, Sant'Antimo Sant'Arpino, Fratta Maggiore, Casoria. Il treno regionale, 34388, di Trenitalia, proveniente da Napoli Campi Flegrei, è diretto a Caserta, delle ore 11.49, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Gricignano, Marcianise, Recale. Il treno regionale, 34398, di Trenitalia, proveniente da Caserta, è diretto a Napoli Campi Flegrei, delle ore 12.04, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 21093, di Trenitalia, proveniente da Minturno Scauri, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 19.29, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Versa, Sant'Antimo Sant'Arpino, Fratta Maggiore, Casoria. Il treno regionale, 34945, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 23.07, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale, 5899, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 23.07, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Caserta. Il treno regionale, 21436, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Villa Literno, delle ore 18.12, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Albanova. Il treno regionale, 21433, di Trenitalia, proveniente da Villa Literno, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 18.51, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Aversa, Sant'Antimo Sant'Arpino, Fratta Maggiore, Casoria. Il treno regionale, 21436, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Villa Literno, delle ore 18.17, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Albanova. Il treno regionale, 21433, di Trenitalia, proveniente da Villa Literno, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 18.51, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Aversa, Sant'Antimo Sant'Arpino, Fratta Maggiore, Casoria. Il treno regionale, 21435, di Trenitalia, proveniente da Villa Literno, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 19.51, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Aversa, Sant'Antimo Sant'Arpino, Fratta Maggiore, Casoria. Il treno regionale, 21048, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale, è diretto a Formia, delle ore 20.22, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.